Ecco, dottor Giustetto, comincia lei a dire cosa pensa di tutto quello che è stato detto finora? Grazie. Ok, grazie. Grazie per l'invito, anche grazie per la presentazione di prima. Saluto tutti i partecipanti, mi permetto di salutare in particolare il collega Carannante, che vedo che è presente con noi e non vedevo da qualche mese, mi fa molto piacere di vederlo. Ciao Pino, detto questo vado sulla mia relazione. Allora, la mia in realtà non è una relazione, è un intervento, neanche di valutazione, quanto piuttosto qualche suggerimento sul contenuto di questo progetto. Allora, dico subito che condivido l'impostazione del documento. Credo che sia anche un progetto molto ambizioso, perché se ho capito bene, l'obiettivo è quello di utilizzare tutta la dimensione del Maria Delaide e se non mi sbaglio, mi sembra che mi fosse stato detto che era di 14.000 metri quadri. Quindi è una dimensione che supera largamente quella che è la dimensione necessaria per una casa della salute, anche una casa della salute ricca, con una serie di strutture in più rispetto a quelle che ci sono di solito. E infatti nel documento si progettano, si propongono diverse attività. Questo però, secondo me, crea un problema che deve essere studiato bene, a proposito di quello che si diceva prima, vediamo come andare avanti. Allora, il come andare avanti è in qualche modo funzione delle soglie che devono essere ben definite dei diversi progetti. Adesso mi spiego meglio. Perché ciascuna soglia ha degli interlocutori diversi. Faccio l'esempio su cui, come dire, sono un po' più competente. Allora, se si immagina la casa della salute, che è nel documento il punto A, giustamente viene scritto che secondo la delibera regionale, che peraltro poi non è così tassativa su questi numeri, si pensa ad una casa della salute per una popolazione non superiore ai 30.000 assistiti. Quindi questa è una dimensione, come dire, molto ragionevole sulla quale credo che chi debba decidere, o meglio, l'interlocutore con cui confrontarsi, è il distretto. Poi il distretto avrà i suoi riferimenti a livello della direzione della, come si chiama, della città di Torino, ma è comunque una dimensione distrettuale. Opportunamente, dite anche, però noi facciamo parte di una circoscrizione di 80.000 abitanti, dove peraltro ci sono delle altre strutture, come i presidi di Lungodora Savona e Via Cavezzale, rispetto ai quali bisognerà coordinarsi. Ma tutto sta abbastanza bene dentro la logica del distretto, questa cosa qui. E questa è una soglia, che siano 30 o siano 80.000 abitanti è una soglia che definisce bene o male un'attività distrettuale. All'interno di questa stessa soglia ovviamente ci sta la casa della salute, come proponete, casa della salute che è descritta in maniera molto sintetica, però forse varrebbe la pena aggiungersi qualche cosa, perché si potrebbe arricchire un po' di più. Per esempio, non sono esplicitati, o forse non l'ho trovato io, un tipo di attività che secondo me è abbastanza importante, che è la presenza dei medici specialisti a livello periferico, ovviamente non con un ambulatorio di cinque giorni alla settimana, ma per quello che serve. Perché questo? Perché da una parte è utile per avvicinare i cittadini ad una prestazione specialistica, ma è molto importante, laddove siamo riusciti a organizzarlo, per fare la medicina d'iniziativa. E voi parlate a un certo punto, se ho letto tutto, dei PDTA, cioè dei protocolli diagnostico-terapeutici. Lo specialista è fondamentale per non perdere il filo del discorso che si instaura su dei pazienti con patologie croniche, che il medico deve seguire proattivamente, cioè non aspettare che si arrivi con un problema serio, ma faccio l'esempio solito, ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, insufficienza renale, broncopneumopatia cronico-ostruttiva, si cerca di seguirli da quando nasce il problema, o addirittura per i pazienti a rischio del problema, quando non hanno ancora sintomi e si va avanti. A un certo punto c'è l'incrocio con gli specialisti. Avere gli specialisti nella stessa sede è molto interessante per il paziente, per quello che ho detto, ma anche per il medico, perché ci si incontra, ci si parla, un sacco di robe si risolvono parlandosi, anche solo al telefono, ma comunque con un rapporto tra gli operatori. Quindi, secondo me, va un po' sottolineato questo aspetto dei PDTA e della presenza degli specialisti. In questo stesso obiettivo, per esempio, in una casa della salute, bisognerebbe immaginare una forte presenza della telemedicina. Per esempio, la possibilità di fare degli elettrocardiogrammi, ma avere… guardate che questa cosa qua la si fa già in diversi posti, no? Elena, ti ricordi? Noi a Pino lo facciamo questa cosa qui. Abbiamo la possibilità di fare un elettrocardiogramma e lo spediamo con una telemedicina molto semplificata, molto semplificata, ma che funziona, al cardiologo che è presente nel distretto e se c'è qualcosa di urgente lo vediamo subito. Ma questo vale, per esempio, anche per la possibilità di fare una spirometria. Parlo di cose proprio basiche, basiche. Ecco, io penso che queste robe possano essere aggiunte all'interno dello schema di casa della salute. Mi riferisco proprio all'esperienza di pianezza, dove so come lavorano in quella casa della salute e so che tutte queste cose che sto dicendo molto in fretta sono presenti. Sicuramente un aspetto che arricchisce la casa della salute è il punto… salto un momento il punto B. Il punto… dov'è che parlate dell'ospedale di comunità? Forse dentro il punto A stesso, no? Ecco, l'ipotesi di avere un ospedale di comunità. Però, secondo me, a questo punto cambia già un po' la soglia, perché da come l'avete descritto e anche per l'esperienza che abbiamo, probabilmente 30.000 abitanti è una soglia un po' bassa per organizzare qualche cosa che sia anche efficiente. Perché tenete conto che se poi l'ospedale di comunità… Cioè, l'ospedale di comunità può essere interpretato in tanti modi. Ditemi voi quando ho solo più due minuti, così sintetizzo velocemente tutto il resto. Però l'ospedale di comunità ha tanti risvolti diversi. Una cosa è avere pochi letti per quei pazienti che possono avere dei momenti particolari di scompenso di una patologia, per cui è sufficiente tenerli in osservazione in maniera un po' più rigida per pochi giorni e poi possono tornarsene tranquillamente a casa. Una cosa è diversa, invece, se si pensa a delle dimissioni protette dall'ospedale. La soglia cambia, perché il numero di letti deve essere diverso. Bisogna valutare molto bene il fabbisogno. Quindi qui c'è già, passando dalla casa della salute e immaginando questo, come dire, è questa cosa collegata sulla quale sono favorevolissimo, però attenzione perché cambia un po' la soglia alla quale ci stiamo ponendo. Anche sul versante del punto B, quando parlate del punto unico di accoglienza, che è assolutamente importantissimo che ci sia, dalla descrizione però mi fa pensare che sia qualche cosa che riguarda una popolazione più alta dei 30.000, per come l'ho letto. Anzi, lo faccio come domanda. Se è una cosa che riguarda una popolazione più alta dei 30.000, va anche questo pensato alla dimensione giusta. Leggendolo mi sono fatto l'idea che riguardasse un numero più alto di abitanti. E naturalmente esula completamente, anche per quello che ci è stato detto adesso nella presentazione del piano, il punto C, il centro di riabilitazione funzionale. Perché appunto, se ho capito bene, si pensa addirittura alla città di Torino, non solo a uno dei distretti. E quindi questo pone anche solo nella elaborazione del progetto, come dire, delle competenze che probabilmente ci sono all'interno del vostro gruppo, ma che sono sicuramente più pesanti, più importanti, ma soprattutto pone il problema di un interlocutore che è diverso da quello che è l'interlocutore del distretto. Perché finché parliamo di casa della salute, è una cosa che in qualche modo non tira dentro la regione. Adesso, come dire, parlo in maniera un po' grossolana. Se invece arrivate a questo progetto del centro di riabilitazione funzionale, sicuramente non è più una cosa che viene decisa a livello di distretto, credone anche a livello di ASL. Ma credo che sia una cosa che rientrerebbe, a me sembrerebbe logico, dentro una programmazione regionale. E quindi vi spostate molto nella possibilità di ottenere, non so se il termine è giusto, comunque una trattativa rapida e pratica. Ecco, quindi io vedo un po' questi aspetti qui. Sono assolutamente favorevole sul punto in cui parlate del potenziamento del servizio delle cure domiciliari, perché sicuramente è ciò che di tutto questo piano potrebbe essere il vero cambiamento della situazione sentita dal cittadino. Cioè, ciò di cui potrebbe accorgersi il cittadino è l'assistenza domiciliare che funzioni. È una cartina di tornasole estremamente importante. Così come anche, è scritto, ma lo voglio sottolineare, perché è messo un po' come se fosse ovvio o non è ovvio, una grande integrazione con il servizio sociale. Il PUA dovrebbe essere l'insieme di tutte queste cose qua, servizi sociali, servizio sanitario in loco e servizio domiciliare. L'ultima cosa, poi smetto, è invece una piccola osservazione che faccio sul punto E, dove parlate sull'assunzione di medici, infermieri, tecnici, operatori sociosanitari in numero adeguato, e questo è un punto interrogativo, perché il personale oggi non dipende né dal distretto né dall'ASL, forse solo ma in piccola parte dalla regione, il personale in questo momento è molto difficile da trovare. Quindi bisognerà anche capire come fare questo, con quale personale poter attivare un progetto di questo tipo. Grazie, grazie infinite, dottor Stetto. E questo è un nodo veramente cruciale. La mancanza di personale è quella che condiziona moltissimo anche la qualità del servizio. Grazie. Grazie.